Il Medaroth è un robot costruito grazie a tecniche molto avanzate. Il Medaroth è un'intelligenza artificiale che viene installata in una struttura corporea chiamata Timpet. E grazie a una grande varietà di parti modulari, questi robot hanno funzioni illimitate. Go! Ora potrai diventare il numero uno, come il tuo robot dovrai vincere la robobattore dei Medaroth. Non ti fermerai nel tuo cuore cegari, non ti fermerai, al tuo fianco avrai. Che riga è il Medaroth, ogni giorno è un giorno nuovo con te. Rote rio, rote rio, combatti contro la roba, roba, ok? Rote rio, rote rio, guarda la vera identità, direttore. Rote rio, rote rio, rote rio, dipendi tutti i Medaroth. Rote rio, rote rio, guarda la vera identità, direttore. Rote rio, guarda la vera identità, direttore.